Il corpo di Michele Labonì è stato ritrovato in mare ieri mattina dalla motovedetta CP310 della Guardia Costiera di Cortone a circa 2 miglia dalla costa, incessanti le attività di ricerca di superficie e subacque coordinate dalla Capitaneria di Porto per due giorni. Alle operazioni condotte massivamente con quattro unità navali, Guardia Costiera in attività di ricerca sotto costa e d'altura, hanno partecipato anche i vigili del fuoco con un elicottero e il nucleo sommossatori di Reggio Calabria. La sessione aeronavale della Guardia di Finanza di Cortone con un elicottero, una vedetta costiera e moltissimi amici e conoscenti dei centri diving e di pesca subacque che si sono prodigati volontariamente in attività di superficie per supportare la Guardia Costiera nelle ricerche. L'allarme era partito alle 7.30 di due giorni fa dopo che il suo compagno di immersione non l'aveva più visto risalire. Nel corso delle attività di ricerca erano stati rinvenuti la maschera e il fucile utilizzato dall'abonia. Ma purtroppo ancora niente fino alle 11.45 di ieri. Le operazioni di ricerca proseguite per due giorni erano state pianificate dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Crotone a seguito di un'attenta analisi delle correnti di superficie e di profondità insistenti nella zona. Diverse le aree di ricerca individuate sotto coste a largo dagli uomini della Guardia Costiera e differenti le modalità di ricerca attuate. L'impegno e le attività di ricerca hanno consentito di spessionare minuziosamente ogni area fino al ritrovamento del corpo dell'apneista crotonese.